Noi abbiamo pubblicato oggi il bando con gli ultimi soldi del FESR non ancora assegnati, con questo praticamente abbiamo assegnato tutti i fondi del FESR e mancano semplicemente due linee per circa 15 milioni di euro complessivamente che sono bloccati da decisioni nazionali. Questi ultimi 10 milioni li abbiamo messi su una linea importantissima che è un bando per l'efficientamento energetico delle imprese, cioè le imprese che vogliono migliorare le loro attività energetiche, il che come noto corrisponde prima di tutto alla strategia che è la carta di pescare, che è la strategia industriale di questa regione che è la sostenibilità, ma tra l'altro segnala un'occasione unica perché contemporaneamente migliora le emissioni in atmosfera e quindi migliora la vita di noi tutti, ma nello stesso tempo migliora per le imprese la propria competitività perché oggi il costo dell'energia per le imprese italiane ed abruzzesi ha un delta del 30% rispetto alle imprese concorrenti di Francia, di Germania e quindi fare un impianto di cogenerazione, qualunque altro impianto fotovoltaico, qualunque altro risparmio energetico è un grande fattore di competitività. Oggi siamo stati in grado di dare il primo esito del revolving, cioè del secondo ciclo del microcredito, il secondo ciclo perché il microcredito per i 46 milioni ha svolto il suo primo ciclo, i soldi sono stati restituiti da quelli che li avevano utilizzati e voi sapete, lo abbiamo annunciato, che mentre nella prima fase davamo 25 mila euro senza garanzia a chiunque, in questa seconda fase abbiamo diverse linee, una che continua a dare nuovi 25 mila euro a chiunque lo richiedesse, ma a quelli che già hanno fatto il primo ciclo e quindi hanno dimostrato di avere una particolare efficienza nella propria attività, diamo la possibilità di crescere con una pezzatura superiore, cioè diamo loro da 30 a 50 mila euro. Hanno risposto 125 imprese, o meglio, hanno risposto più imprese, quasi il doppio, ma ne abbiamo ammessi a finanziamento 126, siccome c'era la possibilità per le imprese che lo volessero di avere anche un pezzo a fondo perduto, ma solo per quelle che si impegnavano a assumere a tempo indeterminato o a stabilizzare un lavoratore, bene, l'11% di queste imprese hanno dichiarato, hanno fatto questa scelta e hanno quindi dichiarato 45 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e 10 stabilizzazioni, quindi 55 abruzzesi andranno a lavorare a tempo indeterminato.